Amici e amiche di Spazio E-Tech, bentornati da Marco sul nostro canale YouTube, sono veramente contento di potervi fare nuovamente compagnia anche in questa settimana con un nuovo video, in questo caso in compagnia di Huawei Nova 5T, lo avete visto in unboxing, guardatevi qui il video in caso lo aveste perso sul nostro canale YouTube, lo avete visto in sfida sui nostri canali social Instagram e Facebook e ora è giunto il momento di dirvi come mi sono trovato con questo smartphone che non vi svelo altro, dopo la sigla iniziamo subito la nostra recensione chiacchierata con Huawei Nova 5T. Eccoci quindi qui davanti alla videocamera con Huawei Nova 5T, è uno smartphone con il quale ho passato praticamente una decina di giorni insieme che esteticamente è veramente molto carino, sotto certi punti di vista mi ha ricordato una copia in scala di Huawei P30 quindi con la differenza, le scopriremo nel corso del video, ve ne accenno alcune dell'ovviamente foro che vedete qui sul display frontale in sostituzione del notch e con la tecnologia del display stesso che passa da AMOLED a LCD. Questa è sicuramente la rinuncia più grande di questo smartphone che se no per il resto si dota di quattro fotocamere sul retro, ve lo faccio rivedere ancora un attimo nella sua struttura, di un sensore per le impronte digitali sul lato, veramente sempre affidabile che va a sbloccare 10 volte su 10 lo smartphone nelle mie prove quotidiane, una porta di tipo C sul fondo, un speaker solo, quindi non è stereo questo smartphone, una costruzione assolutamente impeccabile ed eccellente. Io l'ho utilizzato questa settimana senza alcun tipo di protezione di coverina, seppur presente all'interno della scatola e non ho avuto assolutamente nessun tipo di problema o altro. Parlando proprio di utilizzo vi inizio a dire un paio di indicazioni, ovvero oltre al fatto che questo smartphone ha un display LCD in risoluzione Full HD, trovate poi tutti i dettagli della scheda tecnica sull'articolo e sulla recensione testuale sul blog, link qua sotto, alcuni dettagli. Allora, oltre allo sblocco tramite impronte digitale vi faccio vedere come sia uno degli smartphone migliori dotato di tecnologia raised awake, ovvero il sollevamento per il risveglio. In questo caso poi mi posso far vedere anche dallo smartphone, mi sono spostato un attimo ed ecco qui che si sblocca, quindi sia con riconoscimento 2D del volto sia con il sensore biometrico delle impronte. E' cliccabile, vi faccio sentire, c'è la possibilità di attivare determinate funzioni al tocco, in questo caso ho attivato la sequenza di emergenza, vado a inserire il pin per sbloccarlo, però diciamo che non c'è nessun tipo di problema riguardo i sistemi di sblocco. Sono presenti delle cornici, leggermente più grande sul fondale, adesso vedo di farvela vedere su una schermata bianca piuttosto, eccolo qui, che non sulla parte superiore, però non dà nessun tipo di problema. Diciamo che tutti coloro che amano avere un display senza interruzioni accetteranno magari questo piccolo forellino che è più grande rispetto a quelli che è presente magari su S10, però non c'è nessun tipo di problema su quelli. Parlando di reattività generale ci troviamo, vi faccio vedere un attimo qui che l'ho scaricato per farvelo vedere, ma vi ricordo che tutti i dati tecnici sono presenti all'interno della recensione testuale sul blog, quelli che sono i dati tecnici di questo dispositivo, dotato soprattutto, qui parte la pubblicità, di Kirin 980 a livello di processore, quindi ci troviamo davanti a un vero e proprio top di gamma. Ma come si comporta questo top di gamma? Decisamente bene, nel senso che la fluidità nel usufruire di tutte le applicazioni non è mai un problema, vi faccio vedere Instagram, vi faccio vedere qua il gestore delle pagine, veniteci a trovare fra l'altro sui social per essere sempre aggiornati con tutto quello che succede all'interno del mondo spazio i tec. Facciamo anche una prova su Repubblica, per quello che è il browser, diciamo che non c'è nessun tipo di problema, anche andando ovviamente in sito desktop, quindi se state cercando uno smartphone con reattività a 6GB di RAM, questo smartphone è 128GB di memoria interna, oltre al processore è sicuramente un comparto hardware di tutto rispetto, quindi lato prestazioni pure, lui se la cava assolutamente bene, non mi ha fatto rimpiangere in nessun modo il mio OnePlus 7T. Parlando di display, ovviamente molti hanno storto il naso quando questo dispositivo è stato lanciato sulla fine dell'anno scorso a 429€, prezzo di lancio italiano per la tecnologia LCD del display e non AMOLED, effettivamente sono arrivato al punto di considerarlo un difetto a determinate cifre, a determinati prezzi, come quello di lancio di questo Nova 5T, però di base non è che ci troviamo davanti a un brutto pannello, insomma andare a visualizzare sia le foto scattate, ma ne parleremo dopo nell'area dedicata della recensione, sia vedere delle foto che scaricate non c'è nessun tipo di problema. Se si è abituati ad un AMOLED però il passaggio può essere un po' traumatico, ovvero magari alcuni sfondi sul nero che tendono al grigio potrebbero far storcere un po' il naso. Nella sezione del display c'è la possibilità di andare a tarare comunque finemente alcune impostazioni per renderlo leggermente più adatto al vostro gusto e un display che comunque con la sua risoluzione Full HD non mi ha dato nessun tipo di problema, risoluzione che si può tarare anche in intelligente per andare a risparmiare la batteria, ma vedremo anche qui nella parte dedicata che la batteria non è assolutamente un problema di questo Nova 5T. Mentre sono nel menu delle impostazioni vi faccio vedere un attimo quelle che sono le impostazioni, navigazione di sistema per andare ad avere le gesture, anche se siamo ancora su Android 9 purtroppo. Ho visto essere arrivato su alcuni Nova 5T anche italiani l'aggiornamento ad Android 10 purtroppo io terminerò la prova senza averlo provato e questo è un po' un grande cruccio nel senso che la MUI 10 che ho provato su P30 è una interfaccia software decisamente migliore che non questa versione attualmente preinstallata sul Nova 5T. Nulla che non si possa fare, ce n'è di peggiori, ce n'è di migliori, però diciamo che non rende completamente giustizia a un hardware secondo me molto più scattante di quello che il software non può far vedere. Nulla di irrisolvibile, ovviamente se siete abituati già a un vecchio Huawei non vi troverete assolutamente spaesati. Finiamo la nostra recensione parlando delle due ultime aree interessanti ovvero la batteria e la fotocamera. Dal menu delle impostazioni per andare alla batteria vi parlo un attimo di due indicazioni, una che è quella generica che do a tutti perché magari ci sono ancora persone che non lo sanno o che trovano questo problema. C'è la possibilità di andare nel menu legato alla batteria delle impostazioni gestire alcune ottimizzazioni per risparmiare ulteriormente la batteria ma soprattutto bisogna andare a vedere nell'avvio delle applicazioni come vi ho fatto vedere in quasi tutte le ultime recensioni fatte una gestione che passa da automatica a personalizzata di alcune applicazioni per evitare brutte sorprese. Questo cosa significa che se noi andiamo per esempio in questo menu di un'applicazione a gestire come vogliamo che essa venga attivata possiamo andare finemente a decidere le impostazioni. Questo farà sì che per le applicazioni magari di messaggistica non ci siano problemi nella ricezione. È una batteria che mi ha permesso di coprire sempre la giornata anche quando si parlava di fare video o altro quindi non c'è nessun tipo di problema sotto quel punto di vista. Si possono fare due giornate senza nessun problema con un utilizzo blando quindi batteria assolutamente promossa. Fate solo attenzione ad un paio di indicazioni legate ai risparmi. Per l'ultima parte di questa recensione prima delle mie conclusioni, delle mie considerazioni finali, vi faccio vedere un attimo quella che è l'interfaccia fotografica. Altra area dove purtroppo il fatto di non avere ancora la MIUI 10 si fa sentire perché vi faccio vedere intanto qua potete fermare poi il video tutte quelle che sono le varie impostazioni delle foto fra quale il formato RAW. Un'interfaccia che si completa è presente la modalità notte che è una modalità con la quale nei vostri momenti scuri dovrete tenere fermo il telefono, lui scatterà più foto per andare a unirle e migliorare la luminosità. Presento ovviamente la modalità ritratto, modalità video, vi faccio vedere anche le impostazioni della modalità video con anche il 4K bloccato però a 30 frame o il 1080 a 60 frame. Diciamo che la qualità fotografica ve l'ho fatta vedere in test con OnePlus 7T, quindi avete potuto vedere sul nostro profilo Instagram la sfida diretta fra questi due smartphone nel quale effettivamente non mi sono mai trovato male con questo Nova 5T, diciamo che forse anche il pannello da cui vedevo poteva in parte, essendo io abituato all'AMOLED, influire però è una qualità fotografica che è molto fedele a ciò che andiamo a scattare e ciò che andiamo a vedere, sia in interno che in esterno, quindi il livello di dettaglio è molto alto. Diciamo che mi sono trovato molto bene con la fotocamera macro, quindi quando andate a fare delle foto magari a soggetti vicini, magari un cinturino, facciamo una foto di test, quello che andrete a realizzare non è per niente male, in questo caso c'era il flash attivato, possiamo andare a scattare una foto, così potete vedere anche quello che è la velocità, si vede bene i dettagli anche di questo copritavolo, quindi diciamo che la qualità non è male, mi aspettavo forse qualcosa di più perché avendolo visto insieme a Huawei P30 ho notato come effettivamente, presente intanto qua il grand'angolo, sia un passettino indietro. Bene la fotocamera selfie inserita all'interno del display, quindi nulla di trascendentale, però vi troverete assolutamente bene con un comparto fotografico, forse, ma qui già anticipiamo le conclusioni, il prezzo potrebbe far aspettare qualcos'altro, ma appuntamento fra pochi istanti. Conclusioni quindi di questo Huawei Nova 5T, non posso dire di essermi trovato male, assolutamente la fluidità, l'affidabilità dei sistemi di sblocco, sia biometrico, sia riconoscimento del volto 2D vi farà assolutamente amare prendere in mano questo smartphone, così come il Race to Wake che è simile alla qualità vista su iPhone, incredibile, uno dei migliori in ambito Android. Il display LCD è un buonissimo pannello, quindi la qualità Full HD non ha assolutamente nessun tipo di problema, è ovvio che, secondo me, superato una certa cifra che si sta sempre più abbassando, nel senso che anche nella fascia media stiamo iniziando a vedere display AMOLED, non trovarlo su uno smartphone dal prezzo di lancio di oltre 400€ è un difetto, bisogna essere onesti intellettualmente. Anche se andandolo a utilizzare non avrete alcun tipo di problema o artefatto grafico, assolutamente, un ottimo pannello. La qualità fotografica è buona, ma anche qui, forse, e qui Android 10 poteva essere la risoluzione finale, qualche finezza software potrebbe migliorare la situazione. Se state cercando uno smartphone ben costruito, comunque compattino, perché sia a livello di peso, sia a livello di come sta in mano, non è assolutamente un mattone e non siete amanti del notch e volete provare un qualcosa di comunque diverso dal solito, perché gli smartphone confort non sono tantissimi, questo Huawei Nova 5T è lo smartphone adatto a voi. Non a 400€, non mi sento di consigliarlo a quella cifra, sul mercato dell'usato, dove l'ho preso io, ma dove magari ne potete trovare tanti altri, sui 300€ cambia comunque sostanza e cambia faccia. Spero con questa mia recensione, con questa mia chiacchierata, di potervi aiutare in caso foste interessati all'acquisto di questo smartphone. Iniziate pure a riempire quindi il box dei commenti qua sotto in caso voleste delle domande o ci fossero delle aree della recensione non chiara. Venite a trovare anche la recensione sul blog Spazioi Tech con tutti i dettagli della scheda tecnica. Trovateci sui social, in particolar modo su Telegram. Su Telegram mi trovate sul gruppo aperto di Spazioi Tech dove potete farmi le domande anche sui prodotti che sto testando e anche sul gruppo dei malati di smartphone che saluto tanto calorosamente. Arrivati quindi alla fine di questa recensione, vi ringrazio, vi invito a mettere un bel mi piace, iscrivervi al nostro canale YouTube e da Marco alla prossima recensione. Ciao, un saluto!